Musica Napoli Mattarella rilancia la sfida della cultura. Il capo dello Stato alla cerimonia per gli 800 anni dalla fondazione dell'Università Federico II, poi la visita al Polo Universitario di Scampia, con la cultura, ha detto il Presidente, si possono vincere paura e indifferenza. Fabbrica Modello in Irpinia, il governo sarà con voi. Il ministro Matteo Piantedosi oggi in visita allo stabilimento Omi di Vallata, che ha tagliato il traguardo dei 40 anni di sviluppo e ricerca nel comparto aerospaziale. Il governo al fianco degli imprenditori illuminati che investono al sud. Napoli lite sulle luminarie, il Natale ora è a rischio. La Camera di Commercio ritira il finanziamento da oltre 2 milioni e mezzo di euro. Molte strade della città rischiano di restare al buio. Vertice urgente con le municipalità, intanto le opposizioni vanno all'attacco del comune. Agguato a Benevento fa cadere muro di omertà. Si mobilitano politiche e società civile per condannare l'agguato registrato sabato mattina nel popolare Rione Libertà, dove una donna è stata ferita al volto da un colpo di pistola. Basta silenzio, l'appello che arriva da più parti. Salerno cresce l'attesa per le nuove luci d'artista. Tra le novità di questa edizione, il tema marino, e già sono arrivati i primi turisti in città, nonostante le installazioni siano ancora spente. Anche le associazioni di categoria sperano in una ripresa per l'economia. Calcio, la crisi del Napoli, il piano di De Laurentiis. Il presidente tace sul futuro di Garzia. In Pol ci sarebbe Tudor e sul K.O. al Maradona dice Può succedere che uno giochi contro l'Empoli appannato in maniera impropria e improbabile, ma è la bellezza del calcio. Buonasera e ben ritrovati con la nostra informazione in apertura agli 800 anni della Federico II, il presidente della Repubblica. Sergio Mattarella a Scampia, quartiere a nord di Napoli, in visita alla nuova facoltà di scienze infermeristiche, ha detto il nuovo polo in radia positività sociale. Sentiamo. Il ruolo che al di là dell'immenso valore sanitario accademico che riveste questa sede universitaria, avrà come radazione di positività sociale, lo ha detto il presidente Sergio Mattarella, in visita alla nuova facoltà di scienze infermeristiche di Scampia. Il presidente ha omaggiato con la sua presenza e il suo intervento l'Università Federico II nel giorno dell'inaugurazione dell'anno accademico che segna l'ottocentesimo compleanno dell'università. All'inizio del secondo millennio i primi studi, le prime università, da Napoli a Bologna, da Padova a Parigi, hanno costruito l'ispirazione d'Europa. Dopo la cerimonia ufficiale, nella sede universitaria di Napoli, la visita al nuovo polo universitario di Scampia. Questa iniziativa, non la sola di questo Ateneo, che ha trasformato un sito di degrado e speculazione in un prezioso presidio di servizio sanitario e sociale, è un grande risultato. Che è anche un messaggio che supera il valore straordinariamente grande del servizio sanitario, perché è un messaggio che dà coraggio, che infonde coraggio per sgominare la paura, che è una condizione che induce all'indifferenza quando non alla sua fazione, alla illegalità, alla prepotenza, all'emarginazione. Emozioni e sorrisi anche per le istituzioni. Il sindaco Manfredi ha sottolineato come Napoli si è impegnato nel rilancio della città e delle periferie. Raggiante il rettore Lorito. Qui c'è l'Italia migliore. Sentiamo. Una giornata speciale per tutta Napoli, non solo per l'Ateneo Federiciano, che festeggia gli otto secoli di gloriosa storia. La ministra Anna Maria Bernini ha sottolineato l'importante messaggio al paese che arriva dalla città di Napoli ribadendo l'impegno del governo per sostenere il diritto allo studio, soprattutto dal punto di vista degli alloggi per gli studenti. Per il rettore, un momento di grande importanza. Non dico che sono quasi 800 anni che aspettiamo questo giorno, ma in realtà, a parte gli scherzi, è un giorno veramente speciale. Avere il Presidente della Repubblica, che è vista due sedi dell'Ateneo, ed è una cosa straordinaria e eccezionale, significa grande attenzione per quello che stiamo facendo. Io credo che noi oggi potremmo ascrivere tutta l'attività che facciamo qui in Federico II a quella che potremmo definire l'Italia migliore, quell'Italia dell'accoglienza, quell'Italia della cultura, quell'Italia delle opportunità, che è un po' l'idea, la base della nostra istituzione, di tutto il sistema universitario nazionale. Emozionato anche il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha sottolineato come la città stia riacquistando, passo dopo passo, il ruolo che merita sulla scena nazionale ed internazionale. Sono molto emozionato, perché questa è casa mia. È un bellissimo riconoscimento, Mattarella Scampia, anche un riconoscimento per la città, per quel quartiere, per le tante periferie che stanno trovando una nuova occasione di rilancio. Il governo si impegnerà per combattere lo spopolamento, stando al fianco degli imprenditori illuminati che investono nelle aree interne. Così il ministro Matteo Piantedosi, oggi in visita allo stabilimento Omi di Vallata, in Irpinia, per i 40 anni di sviluppo e ricerca del comparto. 40 anni di successo e impresa nelle aree interne. Oggi a Vallata sono stati celebrati quattro decenni di sviluppo e ricerca nel comparto aerospaziale della Omi con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi. È una visita per me molto gratificante perché è la testimonianza di come anche al sud, particolarmente in Irpinia, si possa sviluppare intelligenza, capacità imprenditoriale e soprattutto proiezione internazionale. È un'azienda, peraltro, che è molto italiana, oltre che, quindi mi fa molto piacere ritrovare qui dei tratti tipicamente italiani di un'azienda su base familiare. Dobbiamo combattere lo spopolamento delle aree interne, dobbiamo fare in modo che possiamo essere a fianco di imprenditori illuminati e intelligenti per trattenere qui i nostri giovani. Queste aziende si reggono molto sulla capacità di intelligenza, quindi di studio e di intelligenza e di traduzione in innovazione dei nostri giovani, dei giovani dell'Irpinia e dei giovani del sud. Quindi il governo sicuramente starà vicino nel supportare le politiche finalizzate a trattenere i giovani al sud. La cerimonia coordinata dal direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo ha visto riuniti sindaci, amministratori e autorità. Io da funzionario fietto ho dato le dimissioni dopo 22 anni di attività per dare il mio contributo alla mia comunità giovani di talento che non sono obbligati a più andare fuori per avere una sistemazione adeguata. Abbiamo creato anche un po' di cultura industriale che sicuramente anche per le attività di ricerca che abbiamo fatto con i prodotti proprietari ci considerà di triplicare le assunzioni e di far diventare sempre più forte la nostra comunità. E 40 anni fa iniziava il sogno dell'aereo spaziale in montagna oggi l'OMI con 4 stabilimenti e oltre 150 lavoratori guarda al futuro puntando su ricerca e innovazione. Vediamo il servizio. Officine Meccanica Irpine festeggia i 40 anni di storia e di impresa nel settore aerospaziale e guarda al futuro con la consapevolezza che ricerca e sviluppo restano le direttrici maestre dell'azienda. È stata una scommessa che oggi possiamo dire vinta e l'impegno nostro di oggi è quello di continuarla ancora meglio e cercare di fare meglio su questo territorio che ha dei valori straordinari. In tre punti le sfide guardando al futuro dell'OMI? Sicuramente ricerca, innovazione e sviluppo di prodotti proprietari. Nata con la legge 219 del 1981 nel post-sisma fondata da Aquilino Carlo Villano oggi l'OMI è una realtà leader nell'aerospaziale fatta di tecnologia e ricerca. Mi ritorna alla mente il fatto che comunque siamo partiti in un'area creata dopo il terremoto con otto dipendenti uno stabilimento e oggi siamo quattro stabilimenti oltre cento dipendenti per non considerare un indotto penso praticamente alla nostra mission che è racchiusa nel nostro slogan Together we fly in clean sky insieme voliamo in un cielo pulito. sono il primo assunto e abbiamo fatto insieme al presidente il signor Villano una scommessa e l'abbiamo vinta. Sì, sono stata la prima dipendente donna e oltretutto ero la più piccolina quindi è un onore adesso essere qui e vedere questa azienda che si è progredita con tantissimi dipendenti e dopo di me altre donne. Ancora sangue nelle notti napoletane due gravi episodi di violenza si sono verificati ad Afragola e a Portalba nei pressi di Piazza Dante un quindicenne di Afragola è stato ferito a coltellate e trasportato all'ospedale di Fratta Maggiore colpito anche il cugino di 17 anni che era con lui e trasferito al pronto soccorso della clinica Villa dei Fiori l'episodio sarebbe avvenuto davanti a un bar lungo la statale Sannitica l'altro agguato a Napoli in questo caso la vittima è un diciottenne ferito con un'arma da taglio alla gamba destra il giovane se la caverà con dieci giorni di prognosi anche in questo caso l'aggressore sarebbe un coetaneo caos luminari a Napoli la Camera di Commercio ritira il finanziamento da 2 milioni e 600 mila euro corsa contro il tempo per trovare una soluzione che non lascia al buio la città vediamo parte delle strade di Napoli rischiano di restare senza luminari e natalizie un'eventualità concreta dopo che la Camera di Commercio si è ritirata dall'accordo col comune che prevedeva un finanziamento di 2 milioni e 600 mila euro vertice urgente con le municipalità si prova a correre ai ripari per trovare una soluzione nel frattempo però le opposizioni vanno all'attacco e criticano aspramente le modalità con le quali è stata gestita tutta la vicenda questa notizia che arriva del mancato accordo con la Camera di Commercio per i 2,6 milioni di euro che dovrebbero servire per illuminare tutta la città in particolare la periferia ci lascia perplessi noi veramente ci aspettiamo ci aspettavamo che l'amministrazione comunale intervenisse subito su questa problematica che è una problematica che la città si aspetta ed è molto sentita non capiamo ancora non riusciamo ancora a capire il motivo perché la Camera di Commercio abbia fatto un passo indietro ci aspettiamo invece da parte dell'amministrazione comunale un passo in avanti in questo senso cioè che l'assessore Teresa Armato a cui va tutta la nostra stima per il lavoro che svolge sicuramente possa dare un'accelerata e far sì che anche quest'anno e anche in ritardo quest'anno riusciamo ad accendere le luci nella città di Napoli Corsa contro il tempo dunque per trovare una soluzione il rischio di penalizzare soprattutto le periferie un danno anche per l'economia turistica di Napoli mentre le associazioni di categoria sperano proprio nel Natale per rilanciare gli affari Era morta da circa un mese la donna ritrovata cadavere a Capaccio Pestum in una casa vacanza ed è giallo sulla mancata denuncia della scomparsa da parte dei familiari vediamo Sarebbe morta da circa un mese la donna ritrovata cadavere a Capaccio Pestum in un alloggio vacanze e dai documenti contenuti in una borsa cara nell'appartamento dove hanno effettuato i rilievi carabinieri dovrebbe trattarsi di una 57enne napoletana a dare un riscontro certo saranno i risultati dell'autopsia che fino ad ora hanno solo potuto indicare il periodo della morte è giallo su come la donna si è scomparsa per così tanto tempo senza destare sospetto in amici e familiari sentiti in queste ore dagli inquirenti gli esami stologici chiariranno anche le cause del decesso visto l'avanzato stato di decomposizione della salma ritrovata su pina su un letto ad insospettire i proprietari della struttura è stato proprio il cattivo odore in cucina vi erano ancora i resti di un pasto consumato da due persone da capire se qualcuno fosse a conoscenza del fatto che il cadavere si trovasse lì e la sua identità nessuna certezza neppure sul movente non si esclude alcune ipotesi dalla morte violenta alle cause naturali o a un overdose mentre sono stati tolti i sigilli alla struttura vacanze restano sotto sequestro il cadavere e l'appartamento dove è stato ritrovato a Benevento si mobilitano politiche e società civile per condannare l'agguato registrato sabato mattina nel popoloso Rione Libertà dove una donna è stata ferita al volto con un colpo di pistola bisogna capire c'è voglia di conoscere la verità sull'agguato di sabato scorso in cui è rimasta vittima Anna Rita 32enne che a Rione Libertà di Benevento gestisce un bar ferita da un colpo di pistola al capo interrogativi allarmi che con il passare delle ore si stanno moltiplicando dopo l'associazione libera il sindaco Mastella e ora il consigliere comunale di Benevento Angelo Moretti di Civico 22 a tenere accesi i riflettori sull'accaduto le condizioni di Anna Rita migliorano si trova ricoverata sempre al Sampio di Benevento dove i medici le hanno rimosso il proiettile che l'ha centrata alla fronte proseguono le indagini della squadra mobile sull'offerimento che ha scosso società civile e politica ciò che è accaduto ad Anna Rita è un po' accaduto a tutta la città la città oggi per fortuna non deve celebrare un funerale e quindi possiamo essere felici che ci sia una vita dall'altra parte dobbiamo essere tutti molto in allerta perché se gli agguati si fanno nel pieno giorno e in una zona che è così frequentata significa che si è abbassato il livello di guardia e che c'è qualcosa che non sta più funzionando Moretti da sempre impegnato del sociale lancia poi un appello ai giovani questo è il momento di non essere mai omertosi è il momento di non arrivare a giustificazioni del tipo se l'è cercata oppure va così oppure è una cosa che accade solo tra di loro come ha detto anche Libera giustamente è il momento di sentirci tutti responsabili e coinvolti i giovani possono fare la loro parte se disincentiviamo certi meccanismi di consumo certi modi di vivere la città incentiviamo invece una città bella ed ora è il caso della coppia di Ariano avvelenata il medico legale non ha dubbi Gerardina è morta per avvelenamento ma intanto si attendono i risultati delle analisi ha una certezza il medico legale Monica Fonso la dottoressa che ha eseguito l'esame autoottico insieme ad altri professionisti sul corpo di Gerardina Corsano la 45enne è morta in circostanza ancora poco chiare la sera del 31 ottobre scorso ad Ariano Irpino il medico legale sentita dalla trasmissione Mattino 5 ha dichiarato unica cosa certa è che Gerardina è morta per avvelenamento sia lei che il marito sono venuti a contatto con una sostanza benefica probabilmente Gerardina in una concentrazione maggiore rispetto al marito insomma una prima verità in attesa dei risultati delle analisi processate all'istituto superiore della sanità di Roma sui campioni prelevati sul corpo di Gerardina le analisi potrebbero essere determinanti per capire le cause del decesso della donna avvenuto dopo aver avvertito malori addominali e dopo due accessi al pronto soccorso dell'ospedale di Ariano e soprattutto saranno indispensabili per capire quali sostanze velenose hanno ingerito i coniugi sia lei che il marito si sono sentiti male dopo aver mangiato una pizza per questo inizialmente si era pensata un'intossicazione alimentare dovuta al botulino ipotesi smentita dagli accertamenti eseguiti sul marito Angelo Meninno l'uomo è corso in ospedale la domenica poi vi ha fatto ritorno il martedì la moglie invece era giunta al pronto soccorso da sola il lunedì mattina poi è stata dimessa ed è ritornata il giorno successivo il martedì insieme al marito lei è stato subito intubata poi è morta il marito è stato trasferito al Cotugno dove è stato sottoposto a lavanda gastrica e dopo qualche giorno è stato dimesso la procura di Benevento intanto ha sentito alcuni parenti della coppia e altri saranno ascoltati nei prossimi giorni c'è attesa per l'inaugurazione di Lucida Artista a Salerno tra le novità il tema marino già i primi turisti sono arrivati in città nonostante le installazioni siano ancora spente vediamo conto alla rovescia per l'inaugurazione della nuova edizione di Lucida Artista a Salerno che si terrà il prossimo 24 novembre mentre sono quasi completate le attività di montaggio delle installazioni nei diversi quartieri cittadini tante le novità annunciate dal comune come il tema marino a piazza Flavio Gioia in città già si vedono i primi turisti ci aspettavamo fossero accise la verità siamo venuti apposta quindi un po' ti diamo le orecchie all'amministrazione di Salerno hanno fatto tardi quest'anno quest'anno hanno fatto tardi per il caro energia è la prima volta che siamo venuti a Salerno comunque la città rende quindi è già bella visitarla così quindi ci ritorneremo magari per vedere le luminari accese un meschinelle più o meno pompose e meno pompose degli altri anni e ormai è diventata quasi una tradizione per cui cresce l'attesa anche delle associazioni di categoria che vedono nella manifestazione una possibilità di ripresa da un periodo critico per l'economia Lucida Artista è stata un'invenzione importante ha colmato un vuoto che Salerno ha sempre vissuto nei mesi di novembre e dicembre quindi anche quest'anno ci aspettiamo dei risultati ci aspettiamo un flusso di persone che possa non solo visitare la città ma possa godere sia delle attività commerciali ma anche dei servizi delle nostre artigiane aspettiamo con attenzione questo flusso turistico che da sempre ci accompagna in questo fine anno Il Magico Mondo del Riciclo un'avventura per piccoli ecologisti questa mattina nell'aula del Consiglio regionale l'iniziativa per sensibilizzare i bambini sulle tematiche ambientali A Proda nell'aula del Consiglio regionale della Campania il Magico Mondo del Riciclo un'avventura per piccoli ecologisti progetto rivolto ai bimbi delle scuole elementari per sensibilizzare i più piccoli sulle tematiche ambientali questa mattina all'evento con la Presidente della Sesta Commissione Consiliare Permanente Bruna Fiola Oggi è una giornata importante un incontro per sensibilizzare i bambini sulle tematiche ambientali una tematica importante che parte dal Consiglio regionale un luogo istituzionale dove è stata approvata anche una legge sulle tematiche ambientali che cercheremo di portare avanti in tutte le scuole campane Per l'occasione presentato il libro Gigi e la Forza di Volontà di Andrea Speranza un volume dedicato alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti Gigi e la Forza di Volontà entra anche nel Consiglio regionale l'incipit fondamentale del libro è poter dare uno strumento che sia a disposizione dei bambini uno strumento in più per capire meglio il concetto non soltanto di sostenibilità ambientale ma anche di emancipazione sociale Iniziativa che ha visto la partecipazione degli alunni degli istituti scolastici Rossini di Napoli Dante Alighieri di Brusciano e De Nicola Sasso di Torre del Greco Io credo che loro sono i veri interlocutori perché se dobbiamo oggi da qui far partire un messaggio di speranza e soprattutto di monito per la sostenibilità dell'ambiente a chi dovremmo farlo se non a loro perché la presenza dei bambini rappresenta un primo classico esempio di cittadinanza attiva Rompere l'isolamento del Sann è una delle priorità di Fratelli d'Italia il senatore Sannita Domenico Matera infatti rilancia la Benevento Caserta come opera fondamentale su cui concentrare l'attenzione del governo vediamo Forte attenzione sulle infrastrutture per il senatore Domenico Matera confermato presidente provinciale di Fratelli d'Italia nel congresso del partito della Meloni Caudino e con una lunga lunghissima esperienza da sindaco alle spalle Matera vede nella Benevento Caserta un argomento fondamentale su cui concentrare l'attenzione Noi ci lavoriamo molto complicato molto difficile ci vogliono tanti soldi io ho partecipato a molte sedute del dibattito pubblico che l'ANAS ha tenuto con le amministrazioni ho parlato con tutti i sindaci del territorio interessati da questa bretella l'obiettivo è di evitare strumentalizzazione non fare obiezioni non fare obiezioni d'opposizioni strumentali al netto dei costi altissimi che avrebbe l'opera impegno difficile ma da portare a casa facciamo in modo che il decisore politico a Roma veda di buon occhio questa opzione questa possibilità e metta un po' di soldi insomma cercheremo di mettere un po' di soldi per la realizzazione costa tantissimo però ovviamente non va fatta in un unico step cercheremo di avviare questo percorso ma siamo nella fase preliminare della progettazione speriamo bene ed era l'ultimo servizio il Tg termina qui grazie di averci se vi auguro una buona serata grazie a tutti grazie a tutti